Io ero qua al dettaglio, io ero qua al dettaglio, io ero qua al dettaglio, venirono la motta, no ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, perché ero sui giocatori, non sulla casa. Vino, ci fai a minotta. Lo va, eh. Mimoro prendo il tasto di Davide per favore, quello di Valentino Rossi, e lì dà le sedie intera. Grazie, Mimoro. Grazie, Mimoro. Grazie, Mimoro. Grazie, Mimoro. Grazie, Mimoro. Grazie. 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 Sì. Difesa. Gioco. Sì. Buona, no? Sì. Allora, per me il giocatore mi chiedeva in movimento, mi aveva calcolato. Mi pare che fosse più o meno così. Sì. Va bene? Sì. Allora, gioco. Non è la mossa, no? Sì. Se vogliamo facciamo che ogni palla... Come volete? Sì. Non sta a unire, eh? Bene. Sì. Non sta a avere una regola che pari a tempo. Sì. Basta che venite da qua su voi. Ok? Sì. Sì. Allora, la palla è rimasta ferma nel punto. Tu eri qua e tu hai tirato abbastanza dritto. Va bene? Forse ero più vicino in Italia. Va bene, va bene. Ok? Sì. Sì. È pompa. Sì. È pompa. Visaso. Sì. Sì. Sì! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti